Le recenti dichiarazioni esplosive di Maria Luisa Iacobelli riguardo a un presunto flirt con Francesco Totti non sembrano aver influito sul rapporto tra l'ex capitano della Roma e la sua compagna Noemi Bocchi. A confermare questa situazione, è giunta una foto che ritrae Totti e Noemi insieme a un gruppo di amici a Miami, città nella quale si sono recati per partecipare a un torneo di padel. Nello scatto proveniente dagli Stati Uniti, i due appaiono sereni e a loro agio mentre condividono un pasto con i loro compagni di torneo, evidenziando che le affermazioni della nota giornalista di Sport Mediaset non hanno scosso minimamente la loro relazione. Perché Totti e Noemi Bocchi si trovano a Miami? Il viaggio di Totti e Noemi a Miami era stato programmato con largo anticipo. La coppia sta prendendo parte al World's Legend Paddle Tour, un torneo di padel che vede la partecipazione di diversi nomi noti del panorama sportivo italiano, come Alessandro Moggi, Vincent Candela e Luca Toni. Entrambi i protagonisti condividono una forte passione per il padel, e sembrano aver gestito con serenità le dichiarazioni di Jacobelli, che non hanno intaccato il loro equilibrio. È importante notare che Francesco Totti non ha confermato le affermazioni riguardanti il flirt, mantenendo un rigoroso riservo sulla questione. Le rivelazioni di Maria Luisa Jacobelli Maria Luisa Jacobelli è stata recentemente fotografata dai paparazzi del settimanale Gente mentre entrava in un albergo a Roma, poco prima che Totti facesse la sua comparsa nello stesso luogo. Entrambi sono stati immortalati mentre uscivano dall'hotel circa un'ora dopo il loro ingresso, suscitando speculazioni sul loro incontro. Quando il settimanale le ha chiesto della possibilità di una relazione con l'ex calciatore, Jacobelli ha risposto in modo enigmatico, 2 più 2 fa sempre 4, se ci sono le foto, è evidente. In seguito, rispondendo a una domanda diretta riguardo a un possibile flirt, ha confermato senza esitazioni, sì, c'è una liaison. Queste rivelazioni hanno suscitato un acceso dibattito tra i fan e i media, ma Totti e Noemi continuano a godere del loro tempo insieme, mostrando che la loro relazione è solida nonostante le voci di corridoio e le insinuazioni. Mentre il mondo del gossip si interroga sulle dinamiche tra questi tre protagonisti, Francesco e Noemi sembrano concentrati sul loro impegno nel torneo di Padel, dimostrando di voler mantenere la loro vita privata al di fuori dei riflettori. In conclusione, le recenti dichiarazioni di Jacobelli non hanno minato il legame tra Totti e Bocchi, che continuano a vivere la loro relazione con passione e dedizione, senza lasciarsi distrarre dalle polemiche esterne.